Il cartellone della Società Aquilana dei Concerti Barattelli entra nello spirito del Natale con un grande concerto organizzato domenica 16 dicembre alle 11.30 e alle 18 nel ridotto del Teatro Comunale. Un appuntamento che vedrà sul palco due grandi artisti legati al mondo della tradizione popolare della canzone d'autore, Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo, la storica voce degli Avion Travel. Ambrogio Sparagna, alla voce Organetto e Zampogna, con il suo ensemble, formato da Erasmo Treia, Marco Tomassi e Marco Iamele, porterà l'Aquila a un progetto particolare che è divenuto pure un CD, dedicato proprio alle canzoncine spirituali di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. E dato che si parla di tradizioni popolari legate alla città di Napoli, ecco che interviene la splendida voce di Peppe Servillo. Siamo nel ciclo settecentesco delle opere dedicate alle festività natalizie, elaborate da Ambrogio Sparagna, conservandone però lo spirito originario con cui queste antiche preghiere popolari cantate furono composte. Intorno alla metà del Settecento, infatti, Alfonso Maria dei Liguori, fondatore dell'Ordine dei Padri Redentoristi, iniziò ad arricchire il suo lavoro pastorale fra i poveri del Regno di Napoli, con la pratica di alcune canzoncine spirituali, composte sia in dialetto che in italiano. Si trattava di canti semplici che traevano spunto da temi popolari, facendoli diventare protagoniste di cerimoniali liturgici mediante la creazione di appositi gruppi di preghiera. Molte canzoni erano legate al ciclo delle festività natalizie, fra queste alcune sono diventate famosissime, come Tu scendi dalle stelle, Quando nascette Ninno e Fermarono i Cieli. In breve questo repertorio si diffuse poi ovunque, diventando protagonista di tanti rituali del ciclo dell'Avvento e favorendo la formazione di un genere musicale caratterizzato da nenne e nanne, pastorali per zampogne, canti ageografici e di questua che sono tuttora in uso in ambito popolare. Grazie! 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 Grazie!